Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Ragazzi! Ma è impossibile! Siamo tornati in tempo? Vabbè Magari il professore Allora... il letto dov'è? Sì, meglio andare ora, così che non devi andare con la tua halla come il terzo legto La porta in l'arco, si tratta alla planta La porta in l'arco, è bello! Grazie, Atti Ma non sono da pisciare Abbiamo i soccorsi Grazie, Grevy 33 Il segnale è bloccato Non riesco a contattarli neanche sulla linea d'emergenza Ok, se vogliamo il professor Barnaby, dovremo trovare da soli una via di fuga Bene, cerchiamo di risolvere questa situazione Forse alla base stanno cercando un modo per aiutarci Allora... 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 Aia, mi sono fatto malissimo Ho dato una giocchiata Ho dato un cazzo qui Mazzata brillo Vai sull'effetto e leggi Allora Aumenta la potenza d'effetto della maschera Ah Oh, io ho una botta a Iado Grazie, sguardo per i 42 Che cazzo è successo? Bro Che cazzo è successo? Bro E' impazzito il gioco Non potete capire come sto vedendo io il gioco Vuoto Vuoto Ma? Rezzi Lo so, ho detto Mi ha nacherato Dai, lo so Che tanto ti devi trasformare Gli ho baccato la fase? Gli ho baccato la fase? Ma si gode Gli ho baccato la fase con l'avvelenamento Sono incredibile Sono incredibile Forza Avanti Fallo L'ho baccata col veleno Mentre stavo andando in fase Perso Abiscatore Bro No La volpe non l'ho più seguita Il toro sta molendo Sta bene lì Mettiamo un pochino la percentuale di critico Level design mostruoso Questo non è il level design Bro Questa è direzione Ma si A me invece Fa solo che piacere Mia madre Mi fa Mi madre è una troia Bomba Signorina Scusi Bomba che attiviamo la scorciadroia No bro Non mi fare un pompino Comunque tu gioca a me Cioè è boh vero Non far tittare Cambia solo Che sta animazione di parata È una merda Odio Questa animazione di parata La odio La odio Con tutto me stesso Regà Odio Questa animazione Ha appeso il vecchio L'ha appeso È perfettamente nel Dino Magari è meglio dire Non bevete troppo No È lunga la cazzin Davvero Questo boss È veramente brutto Questo boss È veramente Veramente brutto Peggior boss No ma Mamma Aspetta Ad Ha senso comprarsi una 480 Ora mi aspettavo di essere 5.000 Insomma ecco quando escono In principio era il silenzio Poi venne la prima nota Eh la prima nota l'ho presa in quinto elementare Un suono primordiale Nessuno a udirlo Urlavo parecchio La musica generosa Non lo vedremo più per un bel po' di tempo ragazzi Quindi stiamo tranquilli Sono attento di giocare per la prima volta Un gioco full italiano Un doppia indipendente Questa cosa mi fa molto È molto strana come cosa Non pensavo di vivere tanto a lungo Di fare il content creator tanto a lungo Da vedere un gioco doppia italiano E da streammare Mi fa molto strano Fanno si piecchi e si epiletti Che macchine sono